Avanzano, rispettando i tempi previsti, i lavori per il rifacimento dei tetti di Palazzo Brera a Milano, sede dell'Accademia, della Pinacoteca, dell'Osservatorio, della Biblioteca Braidense, insomma uno degli edifici al centro della storia artistica e culturale della città. Il progetto, da 3 milioni e mezzo di euro stanziati dal Ministero dei Beni Culturali, prevede il rifacimento di 60 mila metri quadrati di tetti per evitare pericolose infiltrazioni che avrebbero potuto creare danni incalcolabili. Oggi è stato organizzato un sopralluogo per la stampa con sovrintendenti e responsabili dei lavori. Sono già state rifatte 13 falde su 113, percorse da un sistema di passerelle in ferro con 87 lucernari, 19 abbaini e 74 camini. Il cantiere è iniziato lo scorso 25 marzo e il termine dei lavori è previsto in tempo per l'apertura di Expo il primo maggio del prossimo anno. I coppi del tetto sono stati sostituiti, in parte sono stati riutilizzati quelli vecchi quando questo era possibile e in parte sono stati collocati quelli nuovi, ma sempre nel rispetto delle caratteristiche architettoniche. I lavori prevedono anche il rifacimento della facciata posteriore. Siamo soddisfatti perché sono dei lavori meno appariscenti, ma assolutamente necessari per la vita di Brera. Io dico sempre che il compito di un amministratore sia esso un sopralluogo, un assessore alla cultura, più che fare mostri che sono necessari anch'esse, bisognerebbe cominciare a fare la manutenzione dei tetti, perché è la cosa prioritaria. E sul futuro della cosiddetta Grande Brera? Tra qualche giorno, qualche settimana, partiranno i lavori di Palazzo Cittadio, per cui questo progetto della Grande Brera, agognato da più di 30-40 anni, prende corpo. Quindi assolutamente in questo momento il progetto Grande Brera non si concluderà, ma intanto si è partiti per recuperare un monumento come Palazzo Cittadio, e nello stesso tempo spazi per l'allargamento dei percorsi museali. Grazie. 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 Grazie.